Il prossimo 14 maggio, i credenti di tutte le religioni si uniscano spiritualmente in una giornata di preghiera, digiuno e opere di carità per implorare Dio di aiutare l'umanità a superare la pandemia del coronavirus. Pregherò per poter abbattere queste distanze, sperando così di amare finalmente chi ho accanto. Il virus deve essere a tutti i nostri, a tutti i nostri occhi o i morti. Per questo, tutti i nostri amici. Chiediamo al Dio della vita che ci liberi da ogni pandemia, che ci consoli in ogni nostro dolore e che sostenga ogni nostra fatica. Il virus čo, è il virus populare, el virus italionale, in atoms con l'amismo e gli amici. Ma i ingini a tutti i nesse理需要 del virus. Il virus快ment legati permetterare le pðizmi. Èibile, non è più inizi d'itali, non è più iniziata. e continuiamo a dare il risultato. E noi siamo più forti, per questo motivo, il 14 settemane, preghiamo tutti insieme per sentireci chiesa, famiglia e sconfiggeremo la pandemia. Tambi noi, joven, possiamo renovare la speranza. Per questo, nel 14 settemane, preziamo insieme alla fine della pandemia e buschiamo essere un sinal di Cristo ressuscitato a quelli che soffrono direttamente con la Covid. La Paglia è la vita e la vita La Paglia è la vita La Paglia è la vita La Paglia è la vita e la vita La Paglia è la vita Non scusate la Covid-19 e vogliamo di farlo il 14 settemane per questo tipo Cosa ci ricorderemo? Le cose che ci hanno uniti? Cristiani, Musulmani, non credenti La preghiera è una di queste. Allora priemo insieme questo 14 maio, con coraggio e confianza, per domandare la fin di questa pandemia. Il 14 maio, temiamo l'anniversario tutti insieme. Preghiamo con fede tutti insieme. La preghiera è la nostra arma migliore contro il virus. Il 14 maio, tutti credenti insieme, credenti di diverse tradizioni, per pregare, digiunare e fare opere di carità. Allora priemo insieme. Allora priemo insieme. Allora priemo insieme. Allora r הי 매 Inshipe.